Tanti dubbi per Capuano in vista della sfida di Cerignola, sono 20 calciatori convocati ma non tutti sono al top della forma fisica. In ogni caso il Taranto del Monterisi sarà collocato secondo i dettami del 3-5-2, ancora straordinari per Bannucchi tra i pali, supportato in retroguardia da destra a sinistra da Evangelisti Antonini e Manetta. Quest'ultimo, essendo diffidato, potrebbe lasciare spazio a Vona. A centrocampo toccherà Mastro Monaco occupare l'out di destra, Formiconi e tre convocati ma non è ancora al meglio. Dall'altra parte potrebbe esserci Ferrara che però resta in dubbio. In cabina di regia Antonio Romano affiancato da Mazza e probabilmente da Guida. Difficile infatti che Schapi Romano possa vedersi in campo sin dall'inizio, ragion per cui il fantasista ex Vasto Girardi potrebbe arretrare. In avanti, a fianco di Lamonica, possibile chance dal primo minuto per Rajcevic, considerando che Infantino non è al meglio. Sono nove i precedenti tra le due squadre al Monterisi, due vittorie per parte e cinque pareggi. Ai playoff di Serie D nel 2019 si registrò invece un rocambolesco 5-1 in favore dei gialloblu. Grazie a tutti.